Ciao a tutti rega e bentornati con un nuovissimo video, mi raccomando di scrivere e mettere like e vi do solo una piccola cosa, cioè vi dico solo una piccola cosa che uscirà il, non so quando rega, dalla processione, una mystery box e va bene, oggi rega farò queste, cioè vi farò vedere queste montagne russe così voi mi dite qual è la più bella che ho costruito allora questa è la prima, quindi schiedete qui sotto nei commenti prima se vi piace di più questa, poi seconda se vi piace più di questa e poi terza se vi piace più quell'altra che dopo vi farò vedere iniziamo con la prima ok saliamo, piazziamo un vagone questa qua l'avevo già fatto vedere in un precedente video ok rega, piazziamo il vagone via via e si parte spero che vi piaccia questo vi spara via via google 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 molto bello questo Uuuuh 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 Riga, molto bella questa, bro È tutta al buio Tutta via Uuuuh Ok riga, spero che vi sia piaciuta questa Questa era la prima riga, ricordatevi Adesso andiamo nella seconda Quindi se vi piace questa Scrivete due nei commenti Ok Via Oh mamma mia Questa è altissima riga, guardate quanto è alto Ah riga, lì c'è la fattoria di mia sorella Uuuuh 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 Ok è bella dai, bella questa Questa è carina comunque No, tutti i dnt riga Uuuuh Uuuuh Questa era la numero due Seconda E passiamo nella terza Che è l'ultima che ho fatto Riga, purtroppo però non sono riuscito a finirla oggi Perché c'avevo poco tempo Questo lo sapete, rega Questo qua come doveva funzionare Che tu mentre passavi col carretto Cioè qui Io passo Io devo stare qui dietro Pronto per aspettare Spingo con questo Guardate rega Si aprono gli occhi Degli enderman Delle enderman Capito? Avevo fatto tutti questi meccanismi Atti così Perché ancora non ho capito come farli Che partono da lì E poi ce n'è un altro Rega E purtroppo non potrò neanche funzionare questo Che è questo fatto così Guardate rega Che carino Guardate Io aspettate Mi faccio vedere Che io spawnavo Aspettavo che passara la persona Poi mettevo un pollo in bocca A questo Chiudevo E così usciva il pollo Vedi E si faceva finta Che si era da mangiato Va bene rega Dopo che vi ho detto Questi effetti Che non funzioneranno Continuiamo Cioè iniziamo Ok Questa è più scenografica Che è paurosa 3, 2, 1 Beh oddio La salita è comunque Ooooooo Che figo No il mio corpo Rega non si vede più Così il carretto Ah ecco Figo In mezzo all'acqua Bello Wow Bello No pure qui Guardate rega Che figata Cioè non mi siete niente Questa è carina Bello Tarcobaleno Qui la salita Ok rega Scrivete qui sotto Nei commenti Quindi quale vi è piaciuta Mi raccomando Mettete like Adesso vedrete Un attimino Qui al volo La fattoria Di mia sorella Guardate rega Qui ho fatto Una piccola tenda Da tampeggio Col fugherello Poi ho messo Pecore Magliaio Coltivato Ho messo Qua diciamo Le galline Poi qua c'è Una piccola Stala Do ci stanno I cavalli Ok E questa diciamo È una fortezza Di mia sorella Per proteggersi In caso di attacco Perché ieri Io ho fatto Un piccolino Un piccolissimo Scherzetto C'è una casa Lì Di legno E io ho messo Un po' di lava Sopra purtroppo E quindi Mi ha ammazzato Ok Qui rega Si è fatto Una casa A fungo Che non lo sapevo Che se l'era fatta Ero proprio qui Carino Ok Però adesso rega Aspettate Guardate che facciamo Faccio un bel po' Di fuochi d'artificio Che ne dite Per inaugurare Diciamo Le mie tre montagne russe Ok Mettiamo questo Più questo Più poi Prendiamo i fuochi d'artificio Logicamente Che vanno messi dentro Ok Perfetto Guardate come si fa Questo meccanismo A meno che Già non lo sapete Si Si scavano dei blocchi Pure dall'altra parte Uguale Un bel po' Ok Poi Andiamo Mettiamo Uno per così Che ci vuole Adesso di noi E uno per così Vedete che lampeggia Così dopo Ci mettiamo Questo sopra il distributore Dentro ci mettiamo I fuochi E guardate qui E guardate qui Rega È bello Va bene Va bene Rega Io vi saluto E spero che il video Di video vi sia piaciuto Ciao 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 Grazie a tutti